e dare la parola a Paolo Ciani, al nostro coordinatore nazionale, per la relazione introduttiva ai nostri lavori. Paolo, a te il testimone Paolo. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie veramente a tutti di essere qui. Siamo molto felici, emozionati, ma soprattutto contenti di questa occasione. Saluto e ringrazio molto i nostri ospiti, i tanti invitati, ma uno per uno tutti i delegati che oggi sono qui per questo nostro congresso. Nel 2018, lo ricordava Mario, in una bella assemblea qui a Roma, lanciamo la proposta di un nuovo soggetto politico. Qualcosa volevamo che partisse dal basso, che vivesse la sfida di incontrare e coinvolgere chi era disamorato, stanco, lontano, chi si sentiva respinto dalla politica. Abbiamo vissuto la fatica di farlo in epoca di pandemia. Difficile costruire un partito dal basso quando bisognava stare tutti chiusi dentro casa. Ma questo ci ha convinto di quanto fosse giusta l'intuizione di fondo. Ricreare reti umane sui territori. Noi infatti crediamo nelle persone e vogliamo un partito fatto di persone. Grazie veramente a tutti gli amici di Demos che hanno creduto a questa proposta, l'hanno portata avanti, hanno investito tempo, risorse, energie, sostanze personali, perché potesse crescere e arrivare fin qui oggi. Grazie. Ci siamo impegnati perché preoccupati di una società centrata sempre più sull'individualismo, come scelta economica e antropologica, modello di società competitiva ed escludente, che disprezzava i corpi intermedi e schiacciava le fragilità. Ci siamo impegnati perché testimoni di un dramma che vi è più si diffonde, quello della solitudine. In troppi vivono soli, tanti si sentono soli, sentono il peso dell'isolamento fisico, sociale, della difficoltà di incontrare, di stare, di parlare con gli altri. Per questo ci siamo messi a costruire un partito che vogliamo inclusivo, empatico, simpatico e organizzato. Ci siamo impegnati perché crediamo nel valore della politica e della democrazia. Ci ha preoccupato che si sia svilito il ruolo della politica. La politica è stata insultata, ridicolizzata, banalizzata. Certo, ci sono state responsabilità di alcuni attori in gioco, ma anche l'incoscienza di credere che della politica si potesse fare a meno e, assieme ad essa, si potesse fare a meno delle regole comuni della convivenza, delle leggi e, in ultima analisi della democrazia stessa, descritta troppo spesso come un fastidioso orpello che appesantisce il decisionismo, il risolvere, il fare. Ma noi non dobbiamo dimenticare cos'è la democrazia, conquistata e difesa a caro prezzo in altre epoche storiche, i cui principi e valori vanno riscoperti, non dimenticati, raccontati e mai, mai messi in dubbio. Lo diciamo con maggior convinzione oggi, mentre assistiamo a una pericolosa rimessa in dubbio della democrazia in tanti Paesi, pensiamo a rifiorire di tanti colpi di Stato in Africa, ma anche ad alcune realtà in Europa. La democrazia porta con sé sempre un po' di disordine, un po' di confusione, ma questo non deve spaventarci, è l'unico sistema che garantisca libertà e diritti a tutti. Ma il modello autoritario cresce e affascina. Dobbiamo difendere e riaffermare lo spazio comune, che è quello della democrazia, come una piazza delle nostre belle città italiane, in cui tutti possono andare, parlare e incontrarsi, dove nessuno è escluso. Non crediamo nella politica lideristica, ma in una comunità di persone che facciano da ponte tra istituzione e popolo e abbiamo lanciato e creduto in una grande idea, bella, la forza del noi. Ci siamo impegnati per reagire ad una grande malattia del nostro tempo, l'assuefazione al dolore degli altri. Viviamo in un mondo globalizzato e ipermediatizzato. Vediamo e sappiamo tanto, ma cambiamo canale, o scrolliamo, a seconda dell'età, con troppa velocità. Siamo ipersensibili per ciò che ci tocca e iperindifferenti per ciò che riguarda gli altri. Questo non ci sembra né umano né giusto. Siamo un'unica famiglia umana e vogliamo vivere come fratelli e sorelle. Viviamo in un tempo molto grave. L'irruzione della guerra in Europa, il coinvolgimento diretto di una potenza atomica, il riemergere dei nazionalismi violenti chiamano ognuno di noi a un supplemento di responsabilità. Chiariamo subito un punto. In Ucraina c'è un Paese aggredito e un Paese aggressore, il cui Presidente ha scatenato un'invasione feroce e violenta. Sappiamo distinguere tra vittime e carnefici, ma siamo preoccupati dalla rapida superficialità con cui in troppi hanno iniziato a parlare di guerra. Siamo preoccupati da una narrazione bellicista, dalla corsa al riarmo, dall'esaltazione e dalla normalizzazione della guerra e delle armi. La guerra sta cambiando natura. Come è stato detto, noi rispettiamo un popolo che resiste, ma vogliamo guardare al dopo. Ciò che definisce le democrazie è il dopo. Come sarà la pace? Non ci interessa la vittoria, ma la pace, anche perché l'unica vittoria non può che essere la pace. Veniamo da anni duri e difficili di pandemia e mentre ragionavamo su come ripartire dopo la pandemia, come costruire un mondo nuovo, siamo stati catapultati nel peggiore degli orrori, la guerra. Credo che proprio il momento storico che stiamo vivendo ci ricordi l'importanza dell'unità e ci chiami ad essere responsabili costruttori. Ma cosa vogliamo costruire? È una domanda semplice, forse troppo spesso ignorata. È stata ignorata quando si è deciso di edificare cementificando ettari ed ettari di terreno, ignorando le conseguenze di un consumo sconsiderato del suolo. È stata ignorata nelle relazioni internazionali quando si è pensato che fosse sufficiente costruire relazioni mercatiste più che comprendere con chi stessimo intrattenendo quei rapporti. È stata ignorata quando, invece della collaborazione multilaterale in Europa e nel mondo, abbiamo scommesso su una logica soltanto competitiva e aggressiva, pensando che ciò non ci avrebbe travolti. È stata ignorata, giorno dopo giorno, pensando di rimanere sani in un mondo malato e credendo che il dolore e la disperazione di tanti non fossero un problema nostro. Pensiamo al tema della Terza Guerra Mondiale a pezzi, di cui parlava spesso Papa Francesco. Chi ci credeva? Chi lo prendeva sul serio? Chi conosce le vicende della Siria, del Sud Sudan, dell'Afghanistan, del Mozambico, della Libia, dello Yemen? Noi non vogliamo dimenticare, non vogliamo girarci dall'altra parte. Quando è arrivata la pandemia sono emerse tutte le nostre fragilità. Abbiamo ascoltato il Papa dirci che ci troviamo tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Lo abbiamo ascoltato in tanti, lo hanno ascoltato tutti. In tanti hanno detto di essere d'accordo, di condividere, ma è durato troppo poco. La pandemia ha messo a nudo tanti aspetti della nostra società. Enormi disuguaglianze, economia sommersa, ambiguo ruolo dei social, infragilimento della sanità, emarginazione degli anziani e poi il dramma della mancata socialità, con tutte le conseguenze, soprattutto sui più giovani. Nell'assemblea del Seraficum Andrea Riccardi ha richiamato la nostra attenzione sulla fine di un rapporto fecondo tra politica e cultura. questo rimane un grave vulnus in un tempo in cui il presentismo e la superficialità la fanno da padroni. E qui permettetemi di ringraziare Andrea Riccardi, non solo per l'amicizia personale e per quello che rappresenta per questo Paese con la comunità di Sant'Egidio, ma anche per la vicinanza che in questi anni è l'incoraggiamento che ha dato al nostro tentativo. Grazie mille Andrea. Come Demos abbiamo deciso di impegnarci con un faro, guardare le città, l'intero Paese, la società, il mondo, dalle periferie e con gli occhi dei più fragili. Perché la realtà si capisce meglio dalle periferie, quelle geografiche e quelle umane, quelle urbane e quelle globali. E perché siamo convinti che una società a misura di fragili sia a misura di tutti. Dalla periferia si capisce bene che un sostegno economico di base è necessario per tanti e che tanti vorrebbero lavorare. Ma si capisce anche che tanti imprenditori, nell'edilizia, nella ristorazione, nell'agricoltura, cercano lavoratori. E allora è necessario guardare questo fenomeno con occhi nuovi e inventare nuove modalità di incontro, di domanda e offerta. Il reddito di cittadinanza è stata una salvezza per molti. Con i dovuti correttivi e miglioramenti lo difendiamo. Come sostenemmo il reddito di inclusione? Arrivato finalmente dopo anni di proposte e denunce dell'alleanza contro la povertà. La società civile era arrivata un po' prima della politica. Ma manca ancora il vero strumento di incontro tra domanda e offerta. Il mercato va aiutato, ma non può fare tutto. L'idea di un mercato onnipotente che risolve i problemi non ci appartiene. Lo sviluppo economico non può essere fine a se stesso o a beneficio solo di pochi, ma deve essere funzionale alla crescita del benessere sociale, attraverso un lavoro dignitoso e entro il paradigma della sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria. Vediamo l'ingiustizia della disuguaglianza crescere e siamo convinti che sia cresciuta a dismisura, ormai anche all'interno delle singole città, dove nascere in un quartiere o in un altro rappresenta un discrimine. La cifra politica di Demos, sui territori come a livello nazionale, vuole essere quella della lotta contro le disuguaglianze. Deve essere una tensione permanente della politica, puntando a rialzare tutti. La difesa del ceto medio, in fondo, avviene così, con un'attenzione a quando si divarica la società, si spezza socialmente, rende impossibile la mobilità sociale. Così come siamo convinti che chi in un tempo così difficile ha realizzato grandi profitti, e ancor più chi ne realizzerà con l'economia di guerra, debba essere tassato in maniera diversa e più consistente degli altri. Non dobbiamo aver paura di dire questo. Così come siamo convinti che chi in un tempo così difficile, ve l'ho già detto, ha realizzato grandi profitti, ma è meglio ripeterlo, lo tasseremo e proveremo a tassarlo meglio. Vogliamo guardare la società con gli occhi delle donne, che al di là di tanti proclami, spesso troppo finti, ancora troppo spesso devono scegliere tra lavoro e maternità. Sono sottorappresentate, sottopagate e ancora troppo vittime di violenza. Basta! Basta! E in questo sono fiero che molte delle prime elette amministratrici di Demos siano donne, grazie a loro e grazie a un partito che investe sulle donne. Ci preoccupa lo stato di salute del pianeta. Stava nascendo e rafforzandosi una nuova, faticosa consapevolezza. Il contributo di pensiero della laudato sì, i vertici internazionali, il protagonismo e la volontà dei giovani in ambito ecologico, le implicazioni ambientali della pandemia. Ci siamo impegnati con Demos anche per questo. Vogliamo uno sviluppo sostenibile, convinti che l'ingiustizia che fa piangere la terra e i poveri non è invincibile. Qualcosa si stava, certo lentamente, iniziando a muovere. Poi questa stagione sciagurata della guerra ci ha rigettato indietro e sentiamo parlare di ritorno al carbone, una sciagura. Lasciatemi dire una parola sull'Europa, per troppo tempo considerata matrigna, dileggiata e minacciata da nazionalismi e sovranismi. Certo, probabilmente troppo chiusa nei palazzi e troppo eurocratizzata, poco empatica e poco umana, ma quanto necessaria. Dobbiamo ripensare e rilanciare l'idea e il bisogno d'Europa, l'Europa come protezione. Pensiamo al Next Generation. L'Europa deve essere di più una nostra passione, non qualcosa a cui ricorrere in momenti difficili. E meno mare che c'è. Il Premier Draghi a Strasburgo recentemente ha rilanciato le conferenze intergovernative per riprendere il cammino dell'integrazione. Abbiamo bisogno di questa unità politica. Magari si faccia solo con chi ci sta, ma si faccia. Quello che è necessario è un'Europa davvero sociale. Con la pandemia ha dato il meglio di sé ed è questo il vero metodo contro ogni demagogia e populismo senza prospettive. Vogliamo poi combattere la cultura dello scarto. La nostra società è divenuta più attenta, almeno formalmente, ad alcuni diritti individuali, ma sembra aver smarrito lo slancio di passioni, coraggio e ideali che hanno portato a grandi conquiste sociali per i lavoratori, le donne, ampi strati della società. Penso ad esempio alla chiusura dei manicomi o degli orfanotrofi. E allora oggi noi vogliamo dire che la vita degli anziani e dei disabili non è una vita inutile, non è una vita di scarto e vogliamo lanciare una nuova grande battaglia, una battaglia culturale, umana e politica, la deistituzionalizzazione di anziani e disabili. Diceva saggiamente Don Benzi, Dio ha creato la famiglia, l'uomo ha creato gli istituti. Liberiamo tanti i nostri concittadini dalla solitudine spersonalizzante degli istituti. Il ha dimostrato drammaticamente l'inefficacia di questi luoghi come luoghi di protezione. E la recente clamorosa inchiesta sull'RSA in Francia, sintetizzata nel libro inchiesta alle Fosso ayer, i Becchini, che ha scatenato stampa, Parlamento, governi e giudici, ha dimostrato come questi istituti, oltre ad essere spesso luoghi disumani, siano soprattutto macchine per fare soldi. La sola soluzione a questo scandaloso sistema è una riconversione industriale, puntare sulla domiciliarità in tutte le sue forme e sull'assistenza domiciliare. In questo potranno aiutarci i fondi del PNRR e la novità sulla sanità di territorio, che ci auguriamo possa essere il grande momento di svolta per l'integrazione sociosanitaria. Dobbiamo ricominciare a riflettere insieme sull'integrazione euro-mediterranea e su un nuovo modello di gestione dei flussi migratori, che non può prescindere dai corridoi umanitari. Grande best practice europea lanciata dalla comunità di Sant'Egidio. Saluto Marco Impagliazzo, il Presidente della comunità, e lo ringrazio. Nel 2022 non possiamo accettare ancora che si muoia in mare cercando una vita migliore e non vogliamo accettare ancora di finanziare i lager per i migranti in Libia. Venendo al dibattito attuale, qualcuno ci chiede. E sulla legge elettorale siete per il proporzionale o per il maggioritario? Siamo aperti a questo dibattito, ma quello che a mio avviso è importante è lasciare uno spazio del nuovo Parlamento ad espressioni politico-sociali diverse. In un Paese dove aumenta l'astenzionismo e la distanza dalla politica, il problema è allargare la rappresentanza e la partecipazione. Noi siamo per una coalizione elettorale larga, inclusiva e non spocchiosa ed escludente. Il dire se ci stanno loro non ci stiamo noi non ci piace. Noi siamo convinti che la principale passione da suscitare sia quella per il bene comune. Occorre impegnarsi assieme con un patto per il futuro comune. Per questo ringrazio molto i leader dei partiti presenti, perché ritengo molto importante ascoltarsi, conoscersi, far crescere la fiducia comune, confrontarsi. Per questo ringrazio Enrico Letta per aver lanciato le Agora, oltre il PD, a cui Demos ha aderito e ha partecipato insieme a Articolo 1 perché si è aperto e ha coinvolto. Noi, con il poeta brasiliano Vinicius de Moraes, crediamo che la vita sia l'arte dell'incontro, un'arte troppo spesso dimenticata, talvolta vituperata, sicuramente troppo poco praticata. Noi siamo stanchi di scontri, insulti, rapporti esacerbati da continue contrapposizioni. Sembra esserci un gusto inquietante nel metterci gli uni contro gli altri. Noi dobbiamo pensare al bene comune ed è il caso di stare insieme bene, in maniera intelligente. Ecco, cari amici, ecco perché siamo qua, ecco perché ci siamo impegnati e perché vi chiedo oggi di impegnarci ancora di più. Talvolta forse ci è sembrato duro, difficile. La politica a volte ci è sembrata rispondere a logiche e modalità che non amiamo, che non conosciamo. Ma possiamo cambiarle. Soprattutto vogliamo cambiare la nostra società e questo mondo e crediamo nella forza della democrazia e della partecipazione. Non vogliamo solo lamentarci di ciò che non funziona o non ci piace. Vogliamo e possiamo dare il nostro contributo. Vogliamo vivere in maniera responsabile in questo nostro tempo, senza nostalgie o vittimismi. Come disse Martin Luther King, può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Ecco, forse non siamo responsabili di tante cose che non vanno e non condividiamo della nostra società, ma veramente faremo di tutto per cambiarle. Grazie.